Buongiorno, sono le otto in punto di questo martedì 30 luglio 2019 pronti per sfogliare quotidiani locali e nazionali, fatti di cronaca legati a Pescara, alla sicurezza e poi i funerali del vicebrigadiere Cercello Rega sui quotidiani nazionali, vedremo insomma le varie pagine, vedremo anche dei servizi realizzati dal Tg6. Iniziamo subito con i quotidiani locali e vediamo le quattro edizioni del centro, poi vedremo anche Messaggero e la città nelle prime pagine. Ecco qui l'edizione pescarese del centro, vi dicevo questione sicurezza e altri fatti di cronaca in centro città, pugni a un barista e rissa in strada, Pescara ancora violenza in centro, scattano denunce il questore, nessuna emergenza. E poi sotto la testata l'applauso dell'Italia per l'addio a Mario, il vicebrigadiere eroe. Villa Santa Maria, scritta Dux, blitz in paese di prefetto e carabinieri. E poi le nomine in Abruzzo per quanto riguarda i manager delle ASL, Zavattara e Romano super favoriti. A centro pagina Montesilvano, premio di Martin a Simona Molinari, il riconoscimento ai talenti che danno prestigio all'Abruzzo. Ecco qui proprio Simona Molinari vicino all'assessore Comardi e al sindaco di Montesilvano De Martinis. E poi per il fronte degli spettacoli vediamo di spalla il volo in tour per i 10 anni di canzoni stasera a Chieti. Il volo festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, lo fa con un tour mondiale. I tenori siciliani Piero Baroni, Ignazio Boschetto e il baritono abruzzese Gianluca Ginobile faranno tappa questa sera all'Anfiteatro alla Civitale di Chieti. Il concerto inizierà alle ore 21. E poi i richiami di cronaca a Pescara, affitti. Il comune non invia bollette da sette mesi. Rischio stangata. Le 700 famiglie che abitano negli appartamenti del Lente adesso temono di ricevere una stangata. Gli uffici assicurano risolveremo il problema in pochi giorni. E poi sempre a Pescara, Viale Riviera, un parcheggio prenderà il posto dell'ex Enaip. Affara San Martino in provincia di Chieti, giù dal balcone, il leso bambino di 7 anni. E poi ancora allarme truffe, Francavilla nel mirino, il sindaco Luciani avverte la cittadinanza e fornisce l'identikit della coppia di ladri. E poi in basso intanto lo sport sul fronte locale. Ecco Brunori, ora tutto su Sottil. Chiaramente si parla di Pescara, trattative di mercato. Sebastiani crede nella punta e attende risposte dalla Fiorentina. E poi per il calcio di Serie A che partenza? Subito derby e big match. Sorteggiati ieri alle 19. I calendari appunto del campionato di Serie A. Andiamo avanti, edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. L'apertura, il comune chiude, un altro asilo nido. Chieti resta con una sola struttura, 36 posti a disposizione, ma le domande sono 150. E poi la fotonotizia, abbiamo letto in precedenza, arriva il volo con Quarta, il sogno cantare con Bono. Il tour oggi all'anfiteatro della Civitella. Di spalle invece il caso del concerto di Giovanotti a Vasto. Sul concerto la maggioranza lascia l'aula, la maggioranza di centro-sinistra del comune di Vasto. E poi i richiami di cronaca. Chieti, la ASL taglia le liste di attesa per le visite, aumento del numero di prestazioni, attività di recall più serrata per confermare gli appuntamenti ed evitare posti lasciati vuoti. Sono alcune delle novità della ASL Lanciano. Vasto Chieti, Fara San Martino, giù dal balcone il leso bambino di 7 anni. Vasto patteggia 6 mesi l'investitore delle due ragazze. Poi ancora si ustiona e cade dal ponteggio. È grave tutto questo a Chieti, incidente sul lavoro alle case di riposo per un operaio che stava saldando. E poi lo sport, calcio di serie di Chieti. All'assalto di Sansovini, i teatini trattano l'ex bomber del Pescara. Preso il difensore Venneri. E poi edizione terramana del centro-sisma, più a rischio centro e colline. Lo evidenzia uno studio condotto da un geologo su incarico del comune. Il comune Blitz ai Bagni Riviera. Tante irregolarità. Chiuso il bar. Controlli a Giulianova nello storico locale. I richiami di cronaca. Dolore a Montorio Alvomano, papà di 38 anni, stroncato da una malattia. Montorio in lutto per la morte di Arturo Di Salvatore, 38enne, scomparso ieri mattina all'ospedale di Teramo, dove era ricoverato da un mese per malattia. A Roseto, Vandali al Borsacchio, scritte notrive, imbrattano l'area naturale. E poi domani a Teramo, Università via alle iscrizioni con un concerto. In taglio basso leggiamo fallimento di Gennaro Partelasta, Tortoreto in vendita 33 fra appartamenti, negozi e il resort Tortorella Inn. Per lo sport, calcio di serie C, Teramo vuole Costa Ferrera. Si tratta con il Lecce, proposto un triennale a Minelli. E quindi l'edizione aquilana del centro, questa l'apertura, tragico schianto, un morto e due feriti, a Rocca di Cambio la vittima è una 88enne, gravissimo il marito al volante a 95 anni. E poi la fotonotizia a Vezzano, festa con i campioni della storia del calcio, i 100 anni della squadra, sono stati commemorati ieri. E poi ancora i richiami di cronaca all'Aquila, Piazza d'Armi, nuovi dubbi sull'appalto. Mentre va avanti l'iter che dovrebbe portare all'avvio del cantiere per il parco di Piazza d'Armi, la Rialto Costruzioni, che dovrebbe fare i lavori, è stata esclusa dal provveditorato da un altro appalto. Ad Avezzano, a El Foundry, chiuso l'accordo per la vendita. E poi ancora all'Aquila, il convitto a Cotugno diventa campus diffuso. Torniamo alla cronaca, cocaina nel caffè, due in manette. Luco dei Marsi pizzicati dai carabinieri con 50 grammi di droga nascosta in casa. E quindi, in taglio basso, sul Mona, bilancio positivo della manifestazione, giostra al Via quella d'Europa, l'associazione pronta ad accogliere le delegazioni straniere. E andiamo ora sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, nuova mappa del rischio sismico. Centro, quartieri, colline e scarpate, presentato il piano di microzonazione del rischio per gli edifici. Sotto la testata, grande viabilità, confermati finanziamenti per il quarto lotto della Teramo Mare. In provincia, acqua a rischio per i lavori di Ruzzo Reti. Andiamo ora al centro pagina. La fotonotizia, riviera Antimovida, locali nel Mirino. Il NAS chiude il locale dell'estate giuliese. E da Torino è guerra al Gattopardo. L'associazione ne chiede la chiusura per troppo rumore. Vediamo una serie di richiami smargiassi alla ASL. Apertura del Movimento 5 Stelle al project dell'ospedale di Pianodaccio. E poi, sempre a Teramo, transazione Amara. Percorso San Giorgio. A Roseto, Cologna. Piane Roseto, Piangoro, Don Biaggio. Scuole della provincia. 10 milioni di cantieri alle superiori. E poi, sempre a Roseto degli Abruzzi. Avviata la gara per 340 nuovi loculi e per lo sport, calcio, mercato. Teramo e Costa Ferrera. Oggi l'incontro per un biennale al mediano. Siamo sulla prima del messaggero Abruzzo. L'apertura dedicata ancora ai fatti di cronaca di Pescara. Pescara, allarme, città violenta. Dopo le bottigliate tra nigeriani, aggredito il barista di un'attività vicina alle aree di risulta. Pantaleone, palladinette, 87 anni, ferito con un gancio da rimorchio. Denunciato un francese. Poi a Martinsicuro, la gelosia dietro l'assalto a colpi di forbici. Andiamo sotto la testata. Chieti, il tour del volo. Questa sera fa tappa alla Civitella. Festa di Sant'Andrea che ieri sera ha chiuso i battenti con i tradizionali fuochi d'artificio. Shapiro, platea insicura. Il concerto inizia nel caos. Calcio di Serie B. Pescara, all'addio di Brugman. Il capitano andrà al Parma. Dalla città emiliana arriva a titolo definitivo l'italo-brasiliano Sandri. Adesso si esplora la possibilità di far tornare bianca-azzurro sottil. Di spalla i Cinque Stelle si riorganizzano. Oggi il vertice con Di Maio. Incontro chiuso a Città Sant'Angelo. Sul tavolo anche temi locali. L'incontro si terrà presso l'hotel Miramare di Città Sant'Angelo. La foto notizia. Ospedali. Il piano al Ministero. La Regione ha trasmesso la bozza. Poi ancora un taglio medio. Schianto frontale tra due auto. Muore donna. Grave il marito. Un incidente lungo la strada di montagna che porta a Campo Felice. Poi ancora all'Aquila. Calano le nascite ma il capoluogo non si spopola. In taglio basso la star premiata. Il premio di Martin alla Molinari. Lasciamo i quotidiani locali. Andiamo su quelli nazionali. Come detto le prime pagine. I titoli di apertura dedicati in particolare ai funerali del vice brigadiere Cercello Rega a Somma Vesuviana. Ecco qui siamo sul Corriere della Sera. Hanno ucciso. Non sono pentiti. Il giudice sui due americani arrestati. Il generale Nistri. Le polemiche sono come coltellate. Folle e lacrime. I funerali del carabiniere. La ricostruzione della notte. I contatti con il pusher prima della chiamata al 112. Di spalla l'ambasciatore Buccino. Libia. Haftar vuole vincere con le armi. Accordo lontano. In basso ancora cronaca. Bergamo era libero dopo una condanna violentata e rapinata. Ha preso un clandestino. E poi politica. Tensione per un audio tra Salvini e Di Maio. E sull'autonomia. Nuova lite. Lega 5 Stelle. In basso. Corsa Scudetto. Si riparte da Juve Napoli. Calendario della Serie A. La sfida già la seconda giornata. Milan Inter alla quarta. E poi ancora l'apertura di Repubblica. Nistri. Basta coltellate. Ma il caso non è chiuso. Il comandante dei carabinieri dice è morto per tutelare i diritti di tutti. Folla ai funerali di Cercello Rega. Un minuto di silenzio sui canali Rai. Quello che non torna nella ricostruzione del delitto. Di spalla il vertice USA-Cina. La guerra fredda. Ora è tecno. In basso le parole dell'astronauta parmitano. Più deserti. Meno ghiacciai dallo spazio. La terra fa paura. Andiamo avanti. Siamo sulla prima del messaggero. L'urlo della vedova. Tutelate noi. Ai funerali di Cercello. L'appello a Salvini. Lo Stato difende agli onesti. Non quegli assassini viziati. L'affondo del comandante dell'arma Nistri. Basta polemiche. Evitiamo la dodicesima coltellata. Ovviamente la fotonotizia è legata sempre ai funerali del vicebrigadiere. Delitto in quattro minuti. Le mosse del killer. Andiamo sotto la testata dove si punta l'attenzione sul nuovo calendario della Serie A. Campionato avvio shock. Lazio-Roma e Juve-Napoli già alla seconda giornata. E poi torniamo in taglio medio. Scuola. Taglio del MEF. 5.000 assunti in meno per le poche nascite. Via Libera 53.000 nuovi docenti rivisti. Conti del Miur. C'è il calo della natalità. E poi in taglio basso. Banca per il mezzogiorno. Il governo ci prova. Vertice con le parti sociali. L'istituto di credito alle imprese del Sud. Andiamo sulla prima del mattino. Ecco l'apertura. Mario, lo sfogo della vedova. Tutelate noi. Non i killer. Ai funerali di Cercello. L'appello a Salvini. Questi due ragazzi sono dei viziati. Duro il comandante Nistri. Basta polemiche. Sono la dodicesima coltellata. Grande spazio al calendario di Serie A sotto la testata. Ed è subito Sarri-Napoli. Esordio a Firenze. Poi la sfida con la Juve. Chiaramente esordio a Firenze per il Napoli. C'è un mercato in salita per la squadra partenopea. James si tinge di giallo. Il Real lo conferma. Icardi. L'Inter spara alto. E poi in taglio medio. Vergogna al Monaldi. In attesa di trapianto derubato in corsia. Il paziente. Mi sono addormentato 5 minuti. Ed è sparito il cellulare di ultima generazione. Andiamo avanti. Siamo sulla prima del fatto quotidiano. I due amanti sul TAV. Berlusconi farà votare il testo di Salvini per salvare l'opera inutile. Rieccoli. Il 7 agosto. Le emozioni sul Torino-Lione. Quella dei 5 Stelle. Ha più voti. E poi ancora in taglio medio. Dossia azzardo. Pressioni in milioni scommesse. L'Agicom aiuta le lobby ad aggirare la legge. Andiamo sotto la testata. Misteri sul delitto Rega. Il blitz del collega. Un'ora prima. E il pusher libero. Mistri. Non aggiungiamo coltellate. Nel giorno dei funerali. L'ordinanza della procura. Riepiloga i fatti. Arrestano poco chiari gli spostamenti. E gli orari di quella notte. Possibili nuove imputazioni. Per la benda sull'assassino. Andiamo sulla prima del manifesto. Che apre così arma a doppio taglio. La somma vesuviana. I funerali di Cercello Rega. Il generale dell'arma Nistri. Tenta di smorzare le polemiche. Sulla foto del californiano bendato. In una caserma. Dopo il fermo. Ma i magistrati di MD e area. Violati i principi costituzionali. E sull'inchiesta. Ancora molti punti oscuri. In basso. Leggiamo Movimento 5 Stelle. Lega comiche finali. Ma è tutto finto. Tav. Flat tax. Autonomia e giustizia. Giallo-verdi divisi. Ma inseparabili. Andiamo avanti. Siamo sulla prima del tempo. Questa l'apertura. Non dategli la dodicesima coltellata. Sulla scorta insomma di quanto dichiarato dal comandante Nistri. I carabinieri perdono la pazienza. Ai funerali di Mario. Il comandante Nistri chiede rispetto. C'è una vittima. Ma tutti parlano dell'assassino bendato. La gente a Salvini. Fai giustizia. Poi il tempo di Oscio. Dedicato al calendario della Serie A. Adesso vi buco questo pallone. Direbbe un bagnino. Guardando Lulice e Florenzi. I giocatori di Lazio e Roma rispettivamente. Perché? Perché c'è il derby sotto l'ombrellone. Lazio-Roma il primo di settembre. E poi di spalla alcuni richiami. Tragico incidente per un 19enne giù dal parapetto sul Tevere. Morto un turista francese. Orrore in Germania. Spinge Bimbo sotto il treno. Preso immigrato Eritreo. Siamo sulla prima del secolo punto it. Bendate Conte straparla. Il premier complica il lavoro degli inquirenti sui delinquenti che hanno ammazzato il carabiniere Cercello. E poi in basso tre richiami. No ad altre coltellate. Nistri difende Cercello. I compagni vomitano odio figlia di Meloni nel Mirino. E poi il sottosegretario di Renzi diventa ministro a Parigi. L'ex sottosegretario con delega agli affari europei Sandro Gozzi sarà nominato a breve responsabile delle politiche europee del governo Macron. Andiamo avanti. Siamo sulla prima pagina della verità. Questa è l'apertura che si occupa di un altro caso piuttosto caldo di questi giorni. giorni parla la prima pentita di Bibiano. Pensavano solo a togliere i bambini. Cinzia Magnarelli, assistente sociale, era una caccia alle streghe. Avevamo pressioni per alterare le relazioni sulle famiglie. Così anche quando non ce n'era bisogno spesso si finiva per allontanare i minori dai genitori e il tribunale non faceva verifiche. Il giudice onorario di Bologna denuncia il sistema e mi cacciarono tra le calugne. E poi la fotonotizia con la piccola Greta dalla crociata del clima alla crociera per l'ONU. Greta salpa col principe. In taglio medio i due americani violenti e fuori controllo. Le carte del GIP sull'assassino di Rega. Interrogatorio corretto. I ragazzi volevano fuggire. Andiamo sulla prima del sole 24 ore. Apertura, risparmio gestito, commissioni sotto tiro. I costi applicati dalle società di investimento sono slegate dai rendimenti. Dopo un 2018 pessimo, il primo semestre 2019, tra i migliori della storia. Messi a confronto commissioni e rendimenti dei big italiani ed esteri. La fotonotizia, settore agroalimentare. L'Africa e il gruppo Pedon da Vicenza in Etiopia per vendere fagioli a Londra. E poi ancora, Sud, ipotesi, estensione del bonus assunzioni anche dopo il 2020. L'agenda del governo, credito alle piccole imprese e giustizia. Gli altri temi, discussi con le parti sociali. Andiamo ora sulla prima pagina della stampa. Sulla nave 115 migranti. Nessuno li fa scendere. Il governo, redistribuirli in Europa. Sì, da Berlino, silenzio da tutti gli altri. La Gregoretti ad Augusta, a bordo, casi di scabbia e insofferenza. E poi ancora la fotonotizia con i funerali del vicebrigadiere Cercello Rega, la vittima della movida americana. E poi per la politica, braccio di ferro con i 5 stelle. La Lega prepara la resa dei conti. Flat tax o diremo no alla manovra. Andiamo a chiudere questo segmento dedicato ai quotidiani nazionali con la prima dell'avvenire. Che apre così. Eroe e chi serve. Folla ai funerali. L'ordinario militare marciano. I politici prendano esempio. Il generale Mistri evitiamo la dodicesima coltellata. Conte un reato. La benda. Somma Vesuviana. Preghiera della vedova del carabiniere. Da precisare l'intera dinamica. Scendiamo in taglio medio. Migranti naufraghi. De Giorgi. Vite da salvare. Ora le navi tornino in mare. Dal Gregoretti sono stati fatti sbarcare ad Augusta. 16 minorenni. Lasciamo l'avvenire. Lasciamo in realtà i quotidiani nazionali. Torniamo ai quotidiani locali. Partiamo da pagina 2 del centro. Ecco qui il caso di Villa Santa Maria. Scritta Dux. Blitz di prefetto e carabinieri. Sopraluogo in paese di Barbato del colonnello Forleo. Dopo l'interrogazione a Salvini sul simbolo fascista riesumato. E poi di spalla c'è l'intervento dell'esperto. Lo storico Fimiani attenti ai simboli della propaganda. E poi in basso D'Alessandro propone la PAX. La lettera aperta del deputato PD al sindaco Finamore. Su come modificarla. Andiamo ora su pagina 3. L'Abruzzo dalla parte dei disabili. Stop alle barriere fondi per 90 comuni. La regione sblocca 2 milioni di euro per lavori eseguiti dai privati. Ferrante esulta. Ferrante presidente dell'associazione Carrozzine Determinate. Ora una legge sulla vita autonoma. In basso Masterplan. 10 opere nel Pescarese. Stella Maris, Parco del Lavino e Volto Santo. Ecco 8 milioni. La regione ha detto sì alla modifica delle convenzioni firmate nel 2016 per velocizzare l'avvio dei cantieri. Nell'elenco dei lavori per i quali l'anticipo passa dal 5 al 30%. Sento anche strade e depuratori. Proseguiamo. Siamo alla pagina Abruzzo. Focus sulla sanità. Ospedali. Le sei richieste inviate a Roma per il fronte appunto del piano di riordino. Salvi, i presidi di Penne, Popoli, Sulmona, Ortona, Castel di Sangre, Guardia Grele, l'assessore Veri. Tutto il resto slitta. Intanto per quanto riguarda i nuovi direttori generali delle ASL, Zavattaro, Acchieti e Romano All'Aquila restano i super favoriti. In taglio medio la regione dà il via libera a 24 assunzioni. Nei dipartimenti servono geologi, economisti e ingegneri. La giunta approva la spesa di 560 mila euro. E poi in taglio basso nasce l'Agenzia delle Emergenze. L'esecutivo approva la rivoluzione nella protezione civile regionale. Farà capo direttamente al presidente della regione Marsiglio. E ora le pagine della cronaca di Pescara con l'allarme sicurezza per questo susseguirsi di misfatti in pieno centro città. Ancora aggressioni, violenza in centro, barista preso a pugni, rissa in strada. Giovane ferisce il titolare di un locale su Corso Vittorio, lite furiosa in via Battisti. E poi ancora le reazioni, in particolare le dichiarazioni del questore Francesco Misiti che dice nessuna emergenza ha confartigianato più agenti. E poi Pettinari del Movimento 5 Stelle accusa la Lega e chiede pattuglie fisse nei quartieri sensibili. L'UGL boccia la proposta di Dincecco di stipulare convenzioni con le associazioni. E poi ancora qui vediamo una immagine del barista che è stato ferito qui con un cerotto all'altezza dell'orecchio. E poi in taglio medio ritirate sei patenti, tre conducenti erano donne, sorpresi alla guida in stato di ebrezza tra Pescara e Montesipano. La polizia stradale confisca un'auto. Proseguiamo, siamo sempre a Pescara, il comune non incassa gli affitti, da sette mesi non invia le bollette. Le 700 famiglie che abitano negli appartamenti dell'Ente adesso temono di ricevere una stangata. Gli uffici assicurano, risolveremo il problema in pochi giorni e un cittadino chiede aiuto al sindaco. Andiamo su pagina 17, siamo sulla riviera Nord, stop al degrado ex Enaip via alla demolizione. Nascerà un grande parcheggio, la giunta trova 430 mila euro per l'intervento, i soldi recuperati da altre opere in programma. A ottobre i lavori per abbattere gli edifici abbandonati, a loro posto oltre 200 posti auto per l'estate. Poi in taglio medio, parchi con l'erba alta e le panchine rotte, blitz della commissione in due giardini della città vicino all'ospedale, le aree verdi in abbandono. Proseguiamo, siamo a pagina 19, taglio alto, mare, limiti superati 5 volte in via Leopardi, nuove analisi dell'Arta nel tratto già sottoposto a divieto di balneazione. L'inquinamento è da record e poi, tornando alla cronaca, cane cade dal sesto piano e rischia di colpire un passante. L'animale è rimasto incastrato nella ringhiera e ha provato a lungo a liberarsi e precipitato nel vuoto in via Teramo, illesa una donna che ha assistito alla scena. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Montesilvano, in evidenza in questo caso il premio di Martin Targa e Borsalino a Simona Molinari. La musicista è la prima degli otto premiati di quest'anno per aver portato l'Abruzzo nel mondo con il proprio talento. E poi le origini, Dean e il viaggio di papà Gaetano, il genitore dell'attore Lascio Montesilvano per gli States nel 1913. Vediamo il servizio del TG6. Sono onorata, contenta quando mi è arrivata la telefonata, sono stata veramente contenta, un po' perché Dean Martin chiaramente si avvicina molto a quello che è il mio genere, quindi l'ho ascoltato e mi piace. E un po' perché prendere un premio in Abruzzo per me è sempre un piacere perché è come avere un riconoscimento dalla terra che mi ha visto formarmi e crescere. E poi l'Abruzzo è pieno di grandi musicisti e di grandi persone, per cui sono contenta. Qui proprio in queste zone per me è stato un flash tornare perché ho vissuto momenti molto belli. Proprio qui, proprio qui a Montesilvano, ho dei ricordi bellissimi per cui tornare è strano. Simona Molinari, cantautrice swing e jazz, è tornata a Montesilvano per ricevere il premio Dean Martin. Benché la giovane artista sia nata a Napoli, è cresciuta all'Aquila ed è al fiere dell'abruzzesità in tutto il mondo. Quest'anno il premio, ormai giunto alla dodicesima edizione, racconta l'immigrazione italiana del secondo dopoguerra, valorizzando artisti e personaggi celebri che hanno dovuto cercare fortuna lontano dalla propria terra natia, ma portando sempre con sé l'Abruzzo. La dodicesima edizione oggi si apre con una cantante che ritengo tra le più importanti del genere jazz americano, ma anche italiano, è Simona Molinari, davvero un'interprete straordinaria. Sarà lei ad aprire questa edizione con tante novità. Ci saranno altre sette premiati a cui consegneremo questo prestigioso cappello il 7 agosto al Teatro del Mare. Ci saranno artisti come Albano Paolinelli, Luigi Marini, Matteo Brancaleoni. E proseguiremo con altri artisti, una cantante, Lara Molino, che è abruzzese, attraverso la sua musica fa in modo che le nostre tradizioni, le tradizioni abruzzese, si possano conoscere in tutto il mondo. Il premio è dedicato a Dean Martin, nome d'arte di Dino Paul Crocetti, figlio di un montesilvanese che lasciò l'Abruzzo per inseguire l'American Dream. Oltraceano, l'italo-americano, figlio di un migrante, si realizzò come cantante, attore e comico, diventando uno degli artisti più iconici del Novecento. Ci fa sempre piacere ricordare quanto Dean Martin abbia origine montesilvanese e a questo grandissimo artista abbiamo dedicato negli anni tanti momenti. Il più importante di tutti è il premio Dean Martin, che da 12 anni si tiene sul nostro territorio e vuole attribuire dei meriti a coloro che, in regione, ma soprattutto fuori dalle mura nazionali, si sono distinte in tanti settori della vita, quali artisti, come poc'anzi dicevi, ma anche persone di spessore che hanno portato il nome in alto, il nome del nostro Abruzzo. Torniamo sul centro e siamo a Città Sant'Angelo. Ambiente, cambio ai vertici, la Torre Via, Sagazio in Pol, oggi in consiglio la nomina del successore, il commento dell'ex, sono venuti a dirmelo i vigili a casa, avrei preferito saperlo dal sindaco. Proseguiamo e siamo a Francavilla, truffe e furti ai danni di anziani. Il sindaco fornisce l'identikit, Luciani su Facebook è una ragazza con capelli neri e carnagione scura, accompagnata da un giovane, si spaccia per fisioterapista o lontana nipote per entrare in casa. Al momento non risultano denunce. Andiamo su pagina 33, in Val Pescara, a Bussi sul Tirino, a 12 anni dalla scoperta bonifica della discarica Tremonti, l'Arta avvia i controlli sul sito. Geologi e periti chimici dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente devono monitorare le acque sotterranee, l'aria e i gas della zona per valutare l'efficacia degli interventi programmati. Resta l'attesa per l'avvio della bonifica annunciata come necessaria dal Ministro Costa nei mesi scorsi. E ora le pagine di Chieti, servizi all'infanzia, nuovo taglio. Il Comune chiude un altro asilo unito, rimane in attività solo la struttura di via Amiterno con 36 posti a fronte di 150 domande. Sullo scuolabus tutto tace a Chieti. Le promesse di Gian Pietro, questa mattina il Vice Sindaco incontra il CDA di Chieti Solidale per avviare un percorso che porterà alla riapertura degli asili chiusi. Poi in taglio medio, guardie mediche in sciopero oggi e domani. I sindacati chiedono all'amministrazione regionale il ripristino delle indennità di rischio. In taglio basso, Palazzo Veneziani, sempre a Chieti, consegnato all'Ateneo. Ieri sera la cerimonia ufficiale con il Rettore Caputi e il Presidente di Confindustria Pagliuca. Andiamo avanti, sempre a Chieti per la cronaca. Si ustiona e cade dal ponteggio. Grave, operaio di 43 anni, riporta profonde bruciature al volto e alle braccia mentre è impegnato in un intervento di saldatura alle case di riposo. Poi in taglio medio, bimbo di 7 anni, giù dal balcone illeso. Tutto questo a Fara San Martino. Il piccolo era in vacanza con la famiglia dagli zii. Il volo da due metri e mezzo. Proseguiamo. Siamo a Vasto. Bus travolge un lampione illesi autista e passeggeri. Incidente nella notte all'incoronata per il pullman proveniente da Roma. Esclusi malore o colpo di sonno del conducente. Indagini dei carabinieri. Ora le pagine di Teramo con il rischio sismico centro e colline, le zone più vulnerabili. Il sindaco Dalberto dice che il documento è fondamentale per una corretta pianificazione urbanistica e per una reale prevenzione. Per il geologo Collareda, il comune è estremamente articolato dal punto di vista geologico. Andiamo avanti. Siamo a Tortoreto. Fallimento di Gennaro. Immobili all'asta. Via alla vendita di una prima parte del patrimonio. 33 fra appartamenti e negozi al Lido. E il resort Tortorella Inn al Paese. E poi in taglio medio leggiamo Controllo ai bagni Riviera. Chiuso il bar, a Giulianova Forze dell'Ordine e Ispettorato del Lavoro trovano più irregolarità anche igienico-sanitarie. Invece a Silvi, rami secchi mai rimossi, Pineta a rischio incendio. La mancata manutenzione dell'area rende elevata la possibilità di roghi. I turisti segnalano anche l'assenza di paline idriche utili in caso di emergenza. Proseguiamo e siamo sulle pagine dell'Aquila. Con questo fatto di cronaca, ancora sangue sulle strade, in particolare a Rocca di Cambio. Donna muore nello schianto. Due i feriti. Francesca Romana Agostinelli, 88 anni, andava in vacanza sulle Rocche insieme al marito di 95 anni che guidava. L'anziano è molto grave, non è in pericolo di vita. Invece la conducente dell'altra vettura, una 79enne, diretta a Campo Felice. La Procura ha disposto il sequestro dei due mezzi. Poi andiamo a chiudere con quest'ultima pagina, la prima parte di mattino 6. Attesa finita, vendita di El Foundry, chiuso. L'accordo, il sito industriale più grande della provincia, è passato nelle mani della cinese Buxi Sanvexin Semiconductor. Le parole del sindacalista della Wilm, Michele Pagliani. Ci auguriamo di conoscere presto i rappresentanti della nuova società e i loro progetti per il futuro dello stabilimento. La cronaca poi a Lucco dei Marsi, cocaina nelle cialde del caffè, due arresti nell'abitazione dei sospettati. I carabinieri hanno trovato 50 grammi di droga. Noi ci fermiamo con la prima parte di mattino 6. Tra poco però rientriamo con il messaggero, la città e altri servizi. Ora spazio alle previsioni del tempo e alla pubblicità. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6. Siamo sul messaggero. Sanità è l'argomento principale in questo caso. La riforma della sanità ospedali e manager. La regione accelera il piano al ministero. L'assessore Veri dice inviate le prime richieste di classificazione. Penne e presidio di base a Tessa e Castel di Sangro. Aree disagiate per l'Ast dell'Aquila. Si fa il nome di Ciamponi. Decisione a giorni. Scendiamo in taglio medio. Fossa Cesia, il piacere della vita slow. Aspettando il mitico Bob Sinclair che sarà in concerto il prossimo 10 di agosto. Andiamo avanti. Siamo sulle pagine di Pescara. Di nuovo torna l'argomento della sicurezza. E appunto di quanto accaduto, di quanto sta accadendo in questi giorni piuttosto convulsi. Far West Pescara, barista aggredito. Un francese in stato di forte alterazione tira un gancio da traino in faccia. Il padre 87enne del titolare del bar Lucio. In Corso Vittorio l'uomo è finito in ospedale. Fermato dalla volante è denunciato. L'autore dell'aggressione è un'altra persona minacciata con dei vetri. Eccolo qui. Pantaleone Palladinetti con la ferita all'orecchio e il cerotto. Poteva essere una strage. Per fortuna un passante è accorso in aiuto, dice il proprietario Enzo Palladinetti. Poi ancora in basso, in questa zona assistiamo a un crescendo di violenze. Domenica sera una rissa sfiorata. E poi qui c'è la mappa, come viene definita dal messaggero, del crimine in centro. Terminal bus Piazza Santa Caterina. Spaccio di droga pesante. Nigeriani, gambiani, ganesi, magliani e sierra leonesi. Poi la zona stazione con la prostituzione che è terreno per i romeni. Area di risulta, spaccio di droga leggera, pizzo sui parcheggi e terra per i senegalesi. Poi Corso Vittorio, Piazza Santa Caterina. Aggressioni a negozi etnici, varie etnie africane in conflitto con pakistani. Poi ancora droga, prostituzione, rapine, estorsioni. Così le bande si contendono il territorio. L'area di risulta è la nuova stazione al centro dei traffici della mala straniera. Lo spaccio per la movida, il business più ricco. Andiamo avanti, sempre a Pescara. Sciapiro con certo caos, maglietta politica. No, platea insicura, oltre mezz'ora di ritardo. E mugugni del pubblico domenica sera a Sant'Andrea. Il cantante è costretto persino a firmare una liberatoria. In 50 anni mai una cosa simile. Lo sfogo dal palco, poi l'esibizione con Vandelli. Minimizza l'organizzazione. E poi ancora super ospedale. I tecnici della regione preferiscono la sede unica a Pescara. La consulta clinica dopo l'incontro con la Veri. I politici temono conseguenze elettorali. Pericoloso il DEA in condominio. E poi i ruderi dell'ex ENAIP demoliti entro ottobre. La delibera approda domani mattina in Consiglio Comunale. Spesa di 430 mila euro con l'aiuto di cassa, depositi e prestiti. Andiamo avanti. Abbiamo visto in precedenza il servizio. Simona, premio E. Cappello, il Dean Martin alla Molinari. La cantante aquilana a Montesilvano. Torno dopo dieci anni con entusiasmo. Mi ha rincuorato anche la visita nella mia città che sta rinascendo. Cerimonia anticipata per gli impegni dell'artista. Il 7 agosto la serata di gala al Teatro del Mare. Poi in taglio medio De Martinis riorganizza i servizi. Valzer di dirigenti. I primi spostamenti annunciati già ad agosto per colmare le carenze di personale. Urbanistica, lavori pubblici e commercio. I settori chiave, nomine di fiducia anche per la Polizia Municipale. Tutto questo ovviamente a Montesilvano. E ora siamo sulle pagine dell'Aquila. Continua il calo dei nominati ma la città tiene a quota 70.000. Nel 2018 solo 497 parti a fronte di 714 decessi. Preoccupa il trend in costante diminuzione. Al 31 dicembre scorso residenti a quota 70.225 con 187 unità in più rispetto all'anno precedente. Prosegue il flusso positivo di chi arriva da un altro comune. 1145 a fronte dei 955 a fine del 2017. E poi leggiamo in taglio medio convitto salvo agli studenti sconti e agevolazioni grazie alle borse di studio. Miur, condizioni particolari per gli iscritti. Avanti ancora mappe e trenino. L'estate in centro tira. I numeri delle presenze in questo periodo sono confortanti. Va a ruba la cartina con i monumenti voluta dal Munda. L'Infopoint trasloga provvisoriamente in Piazza Duomo. La struttura della Fontana Luminosa sarà potenziata. Allora, a tal proposito, vediamo il servizio andato in onda ieri nelle edizioni del TG6. Presenze turistiche in crescita in città. A giugno e luglio il flusso è stato costante a una prima visione dei dati dell'Infopoint. Per quelli ufficiali bisognerà attendere, ma ad ogni modo la città è sempre piena di turisti. Molti dei quali arrivano dalla costa e scelgono di far tappa per uno o due giorni in città. Molto apprezzato è il Gran Sasso. Quello che stiamo verificando invece è una crescente interesse da parte dei turisti, non soltanto italiani, che investono le strade della nostra città. E lo abbiamo sia da dati di riferimento dell'Infopoint, sia anche da dati di riferimento degli albergatori, dei ristoratori. Certo, prima dovremo attendere i dati ufficiali, chiaramente, che verranno poi elaborati dall'Istat, secondo appunto quelle che sono le procedure dei nostri uffici regionali. Però in realtà io penso anche i cittadini aquilani se ne rendano conto camminando per le strade della città. E devo dire che ogni volta che si parla dell'Aquila al di fuori della città, continua a esserci molto interesse, molta voglia di capire che cosa sta succedendo da noi. Il trenino ideato dall'assessore Fabrizio Aquiglio, che porta i turisti in visita nei principali monumenti cittadini, con una voce guida che racconta la storia dell'Aquila, è sempre pieno. Ed è in corso una riorganizzazione relativamente all'Infopoint, che per il momento si trova in Piazza Duomo per consentire lavori alla struttura della Fontana Luminosa. Saranno implementati i servizi, saranno usati anche i ragazzi che hanno fatto corsi legati al turismo. Questo servizio di informazione, sempre seguendo un po' l'iter amministrativo, che chiaramente è un po' più lento rispetto a quello che è la nostra, diciamo, la nostra reazione, e vedrà anche accresciuto da ragazzi che faranno poi attività di accoglienza nei confronti dei turisti, anche portandoli appunto in giro nella città. L'Aquila deve capire la sua vocazione e i flussi di interesse. Ad ottobre l'assessore, infatti, incontrerà gli operatori turistici. Si va sempre più diffondendo intanto la cultura dei B&B. La mia intenzione è poi riunire anche gli albergatori e tutti gli operatori economici del turismo proprio per capire come poter essere più vincenti da questo punto di vista perché nel momento in cui noi a ottobre, diciamo in autunno, abbiamo già in programma di iniziare a lavorare per l'organizzazione dei flussi, proprio con quelli che sono gli operatori turistici, capire poi la nostra città e il nostro territorio perché è importante, noi non parliamo mai solo di città perché dobbiamo sempre parlare del territorio comunque circostante, sia in grado di accogliere, cioè quali sono i numeri, quali sono le disponibilità. Torniamo sempre sulle pagine del messaggero. Siamo in Marsica. El Foundry, da ieri è interamente cinese. Lo annuncia un documento interno firmato da Sergio Galbiati che riepiloga tutti i punti dell'accordo con la multinazionale. Abbiamo messo a loro disposizione tutta la nostra ormai trentennale esperienza e lo hanno compreso. Proseguiamo, pagina di Chieti. La delibera sui conti all'esame verità di Primio è fiducioso. La maggioranza ha disertato il Consiglio, domani la seduta decisiva Argenio del Movimento 5 Stelle. Il vero scoglio sarà il consuntivo. Il braccio di ferro con Forza Italia alimenta l'incubo del commissariamento. Sapremo presto chi è contro la città. In taglio medio il tour del volo fa tappa alla Civitella. Questa sera il concerto alle ore 21. E poi in taglio basso Italvolley. Bel successo, ma il sindaco non c'è. Andiamo avanti. Siamo a Lanciano. Sanità in ritardo. La fondo del PD, l'ex assessore regionale Paolucci, guida l'attacco frontale a Marsiglio e alla Asla Chietina senza governance da marzo. Lunga la lista dei problemi per le strutture del capoluogo. La paralisi di Lanciano e Ortona. Nel Mirino anche il governo. Un giudizio severo dal coordinamento provinciale per voce anche di Cordisco, Pupillo e Madonna. Poi ancora indennità di rischio. Oggi e domani scioperano le guardie mediche. Attività limitata ai servizi urgenti. Dalle 20 alle 24, Petrucci pone le richieste per un accordo. Il sindacalista Petrucci. Andiamo avanti. Pagine di Teramo. La Asla taglia gli straordinari, i medici sul piede di guerra. Primari e dirigenti UOC avvertono così si bloccheranno interi reparti. L'azienda ha superato il tetto del 70%. La gestione del personale deve essere rigorosa. Lettere di fuoco alla direzione generale dell'ente dopo l'annuncio della sospensione del lavoro extra. E poi di spalla leggiamo mappa del rischio sismico. Ecco le zone più a rischio nel comune di Teramo. Invece a Giulianova carabinieri blitz nello chalet fuorilegge. I militari al Bagni Riviera trovati lavoratori in nero, pedane abusive e frigoriferi per le bevande in spiaggia. Nei locali cucina sono stati riscontrati insetti infestanti. Attività balneare sanzionata con 7 mila euro di multa. L'arma insieme ai NAS e alla ASL sta controllando tutti i bagni della costa giuliese. Poi sempre a Giulianova il nostro ospedale tradito dalla Berì. Riordino sanitario Pablo Gaderi accusa la giunta regionale. Lasciamo il messaggero, andiamo a sfogliare le pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Iniziamo da pagina 5, nuova mappa del rischio sismico in città, nella città di Teramo. Per l'appunto, presentata la microzonazione del territorio comunale, servirà a pianificare urbanistica, costruzioni e ricostruzione. Le indagini, 200 pregresse, 91 sismiche, poi 75 indagini remi, 25 elettriche, 2 sondaggi e 2 risonanze. I destinatari, il piano servirà per la pianificazione del territorio e per i tecnici delle imprese edili e della ricostruzione. Proseguiamo, siamo a pagina 6. 10 milioni di lavori alle scuole superiori. La provincia fa il punto degli interventi estivi, presentato lo studio da 5 milioni per il nuovo liceo artistico Montauti. Pagina 7, il Movimento 5 Stelle apre all'ospedale nuovo di Piano Daccio. Il project del manager ASL, seppur embrionale, è definito un'ottima soluzione da condividere da Pietro Smargiassi, appunto, del Movimento 5 Stelle. Pagina 14, Teramo Mare. Confermati i fondi per il quarto lotto. Investimenti per il completamento dell'opera, approvati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Sul fronte ferroviario sono stati predisposti 211 milioni che permetteranno di completare il raddoppio della linea Pescara-Chieti. Pagina 15, in Val Vibrata l'erosione non si ferma ad Alba Adriatica. La mareggiata di domenica scorsa provoca altri danni alla zona nord. Giancarlo Stipa ha pubblicato sulla rete un video chiedendo una volta per tutte un progetto concreto. Giancarlo Stipa, presidente di Alba Tour. Pagina 16, chiuso il Riviera dopo il blitz dei Nassi, regolarità e lavoratori in nero nel locale simbolo dell'estate giuliese. I gestori hanno assicurato di essere già al lavoro per riaprire il locale in tempi brevissimi. Pagina 17, Giulianova, beffati anche dalla regione di centrodestra, il comitato intercomunale per la difesa dell'ospedale di Giulianova critica l'assessore Verì per le promesse mancate. La salita a Tenamana, proprio quella che dovrebbe essere la barriera alla mobilità, si avvia ad un processo di decadimento. E ora lo sport, apriamo dunque la parentesi dello sport in questa parte finale di mattino 6. Siamo chiaramente sulla città, quindi calciomercato legato al Teramo. Teramo Costa Ferreira, oggi l'incontro sul piatto. La dirigenza metterà un contratto biennale. L'ASIC in ritiro una settimana per valutarlo. Minelli, trequartista arrivato dalla Fiorentina, presto un triennale. La buona prestazione alla prima uscita e la naturale propensione del ragazzo a ricoprire il ruolo di trequartista porteranno presto alla proposta di un contratto pluriennale, probabilmente un triennale. E poi di spalla un ritorno nel Teramo Basket, si tratta della guardia Lorenzo Nolli. Andiamo ora a dare uno sguardo ai quotidiani nazionali. Le prime pagine, poi torniamo ai locali. Vi proporremo anche un'intervista al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che fa il punto sul mercato e anche sull'operazione in uscita di Gaston Bruckman. Qui siamo sul Corriere dello Sport. L'apertura di Bala-Lukaku si fa lo scambio. Juve e Manchester United da un passo dalla chiusura. Pressing di Paratici per convincere l'Argentino. L'Inter spiazzata via su Cavani e offre 15 milioni per Geco. Iguain si avvicina alla Roma, mentre il Napoli prepara l'offerta per Icardi. E poi sotto la testata Sarri-Napoli subito. Ecco la nuova Serie A. Si parte il 24 agosto. Alla seconda la sfida tra la Juve e Ancelotti. E il derby di Roma. Conte inizia con Lecce. Milan Inter alla quarta. Cellino il via a Cagliari. La gazzetta dello Sport. Ecco l'apertura. CR7 Show. Ronaldo ha ricevuto il premio leggenda da marca. Juve è più forte. La Champions arriverà, sono sicuro. E poi dice ancora il campione portoghese. Ammiro Buffon con Casillas. Il miglior portiere al mondo. Di Bala in vendita. Lukaku a casa. Sarà scambio. E poi altri richiami. Inter, Mossa-Marotto. Offerti 15 milioni. GECO si avvicina. Milan doppio sbarco. Leao e Leo Duarte. Testa e poi firme. Sotto la testata. Spazio chiaramente al calendario di Serie A. Subito Serie A. Boom. Lotta Scudetto dopo sette turni. Prima verità. Sarri affronta il suo Napoli. Poi Milan-Inter. La prima di tutto sport. Che apre così la resa dei conti. Juve-Inter in attesa della sfida in campione. Governato del 6 ottobre. Sono ore decisive per Lukaku. Non convocato dallo United. Per un amichevole in Norvegia. Paratici accelera. E Nedved ammette che Di Bala. Possibile contropartita. Può partire. E poi di spalla. Verdi al Toro. Ci siamo. Sotto la testata. Sarri-Napoli alla seconda. Diamo uno sguardo anche alla prima del quotidiano sportivo. L'apertura. Partenza. Boom. Nasce la nuova Serie A. Juve-Napoli subito alla seconda. Il derby di Milano alla quarta. Ecco il calendario. E poi è il giorno di Leao e Duarte in rosso-nero. Torniamo sulle pagine dei quotidiani locali. E andiamo sul centro. Ovviamente calcio-mercato in evidenza. Sebastiani. Brugman saluta. Brunori può sorprendere. Il presidente del Pescara prepara altri colpi dopo l'operazione con il Parma. Il patron punta tutto su Sottila. Aspettiamo la risposta definitiva della Fiorentina. Tutino si allontana ed è vicino al Verona. Il capitano lascia i biancazzuri per 2 milioni e mezzo di euro. Degli emiliani il bomber per meno di un milione. Dopo la cessione di Perrotta al Bari non arriverà un sostituto. In difesa adesso siamo al completo. Vediamo dunque l'intervista che abbiamo realizzato ieri con il presidente del Pescara. Presidente Calcio-mercato, il nome del momento è Gaston Brugman. A che punto siete in questa operazione di uscita verso il Parma? C'è questa trattativa con il Parma abbastanza avanzata. Bisognerà sedersi per ragionare sui dettagli. Però credo che sia un'opportunità vera. Circa la modalità del trasferimento su cui state discutendo. Sarà prestito con obbligo di riscatto? Sarà titolo definitivo? Ci saranno contropartire tecniche? No, sicuramente si ragionerà con un prestito con obbligo. Così come si ragionerà dall'altra parte sul giocatore che farà parte di questa contropartita. Che è un giocatore che noi volevamo già all'inizio del mercato. Sempre con un prestito con obbligo. Per cui diventeranno effettivi nel prossimo anno. Sarà Matteo Bruno Risandri e non Dermacu. Quindi un attaccante, non un difensore. Sarà questa la contropartita tecnica? Credo di sì perché noi a livello di difensori ne abbiamo tanti. E quindi riteniamo di essere abbastanza completi là dietro. Con la possibilità anche di interscambiare i giocatori. Perché abbiamo giocatori che onestamente possono giocare sia a destra che a sinistra. Abbiamo giocatori che magari possono giocare anche in 3, 4, 2 all'occorrenza qualche partita. Anche i difensori centrali magari avendo un altro ruolo. Quindi evitando di fare ammucchiate di giocatori perché poi diventa difficile anche la gestione. Su fronte a entrate si guarda sempre al settore esterno. Sottile e tutino, qual è il punto della situazione su questi due profili? Ma sapete benissimo che non dipende da noi. Se dipendesse da me li prenderei tutti e due. Sono due giocatori forti e quindi li prenderei tutti e due. Però sono due giocatori che hanno le squadre di proprietà che puntano molto su questi ragazzi. Quindi se dovessero farli uscire perché riterranno che hanno bisogno di fare un altro passaggio. Il Pescara c'è e vi assicuro che c'è anche il gradimento dei due ragazzi e delle società. E' chiaro che se dovesse sottile rimanere a Firenze o tutino andare in Serie A parliamo del nulla perché di fronte alla Serie A non si ragiona. E Canutè è il giocatore che vorreste piazzare affinché lui possa trovare grande minutaggio? Devo dire che noi abbiamo una grande stima dal punto di vista calcistico del giocatore e anche del ragazzo perché è un bravissimo ragazzo. Ripeto è un patrimonio ed è un giocatore importante. E' arrivato il momento che forse lui vada veramente a misurarsi una stagione intera e magari chissà che a fine del prossimo campionato non ce lo ritroviamo o come titolare del Pescara o addirittura come un patrimonio da mercato. Cosenza potrebbe andare lì? Cosenza è la squadra che sta spingendo di più per averlo perché poi ha bisogno in quel ruolo e quindi noi non possiamo mandare Canutè a giocare in un posto dove magari ce ne hanno già quattro se noi ce lo teniamo a Pescara. Sul messaggero Pescara Brugman andrà al Parma le parole di Sebastiani siamo al completo in attacco aspettiamo se sarà possibile riportare Sottil in difesa siamo tanti niente Dermacu Zauri non mi ha chiesto un altro centrale. Poi ieri il raduno della primavera del Pescara al poggio è arrivato le grottaglie c'è entusiasmo le grottaglie nuovo allenatore della primavera sempre sul fronte mercato due prodotti del bivai ancora in bilico ventola e vittorini potrebbero restare. Serie C il Teramo vuole Costa Ferrera e poi per la pallannuoto nella seconda pagina di sport del messaggero superstar di Fulvio e Pomiglio gli azzurri mondiali targati bianca azzurri il bomber vincere così sensazione unica il vice CT di campagna il pensiero va a papà e la prima vittoria da quando lui non c'è più sono certo sarebbe felicissimo e poi sempre sul fronte pallannuoto Pescara ha acquistato il gioiellino stanchi. Torniamo un attimo sul centro vediamo la pagina sulla serie C e la serie D Teramo oggi l'incontro decisivo per Costa Ferrera i biancorossi sul giolli portoghese del Lecce Iaconia pranzo col procuratore pronto un triennale per Minelli approvato il bilancio nel CDA entrano due donne per la serie D arrivano colpi importanti dal Giulianova Fioretti al Giulianova Giordano Fioretti ex Gavorrano ex Fano attaccante importante e poi il Chieti tratta Marco Sansovini i giallorossi calano il poker presi il bomber Dolce Malandra e Moi i teatini chiamano l'ex Pescara e Neroverdi ingaggiano l'esperto difensore Venneri dal Savona Avezzano via al ritiro è fatta per Ragneri si stringe per l'esterno d'attacco De Costanzo Noi chiudiamo qui questa edizione di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con i TG6 con le edizioni principali alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io ringrazio in regia Loris Bennato ringrazio voi per la cortese attenzione ci lasciamo con qualche secondo che dedichiamo ai fuochi pirotecnici che hanno chiuso ieri sera ieri notte la festa di Sant'Andrea a Pescara spazio dunque agli spari e poi alla sigla mattino 6 torna domani alle ore 8 a Pescara spazi i Grazie a tutti.